Ciao a tutti amici di Non Aperti Questo Blog, qui è il Gons, benvenuti sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un pacco che mi ha inviato Lucky Red. L'occasione è l'uscita di questi due film molto interessanti. Uno è Maxine di Ty West, terzo film della trilogia appunto iniziata con X, che uscirà il 21 agosto al cinema. Io ho già visto il film in antiprima stampa e prossimamente uscirà la mia recensione, senza spoiler chiaramente. E poi il secondo film è Love Lies Bleeding di Rose Glass, con Christy Stewart, un thriller particolare con queste due ragazze che si innamorano e insomma succedono un po' di casini intorno a questa storia. Le aspettative per questo secondo film sono molto alte per me, perché Rose Glass è la regista di St. Maud, che è un film che vi consiglio tantissimo. Film molto bello, molto interessante, forse poco conosciuto. È un film interessante, anche questo uscirà il 12 settembre. Intanto vi faccio vedere la confezione di questo pacco che è veramente gigantesca, oltre che essere gigantesca è anche fighissimo. Ma veniamo all'unboxing doveroso, perché è veramente qualcosa di fenomenale, credo di non aver mai ricevuto niente di così ricco, bello, sfarzoso, bello anche esteticamente il packaging. Eccolo qua, poi vi faccio vedere gli oggetti uno ad uno. Enorme, c'è veramente tanta roba. Allora, non mi piace fare il finto sorpreso. Io l'unboxing l'ho già fatto, aperto, per chi mi segue su Twitch, qualche giorno fa, in diretta. Adesso ne sto facendo uno nuovo, per cui io so già cosa c'è dentro, però vi voglio far vedere gli oggetti. Quindi seguitemi sul mio canale Twitch, trovate il link in descrizione per vedere tutte le mie dirette, recensioni, eccetera, in anteprima. Poi comunque i contenuti più interessanti li carico anche qua sul canale YouTube. Allora, vediamo prima gli oggetti gadget dedicati al film di Ty West, Maxine. Maglietta di Maxine. Un kit di trucchi, perché appunto il film ha anche questo tema del... Credo che inizierò a truccarmi a questo punto. Cosa devo fare? Eccoli qua, sono stupendi. C'è anche un ombretto qua, Half Magic. Un invito alla maratona che si terrà a Roma il 21 agosto, all'uscita del film. Però mi sembra di aver letto in rete comunque che questa maratona si può partecipare anche in altre città. Insomma, basta guardare un po' i cinema che la organizzano. E potete acquistare i biglietti per vedervi la trilogia e fare una nottata Ty West. Mi sembra una cosa interessante per chi ce la fa. I film sono comunque tutti molto belli, quindi mi sembra una cosa buona. Io purtroppo a Roma non potrò esserci, per cui ringrazio Lucky Red per l'invito. Mi è stato mandato anche l'edizione DX Blu-ray, che però io ho già. Un film bello, che tra l'altro ultimamente ripensandoci, vedendo un po' tutta la trilogia, non lo so, mi era già piaciuto tanto, lo sto ancora caricando ancora più di significati e di importanza. E poi mi hanno mandato Pearl, che invece non avevo in un video, quindi è un aggiornamento della collezione. Il Blu-ray, sempre comunque distribuito Play On. Allora, questa è veramente la cosa che mi ha esaltato di più, ragazzi. Perché chi mi conosce bene sa che ho fatto la scuola del fumetto. E all'interno c'è questo contenitore con una stampa di un disegno di Milo Manara con autografo, e c'è appunto Maxine, ritratta in stile appunto Milo Manara. Qua c'è l'autografo. Penso che l'autografo sia assolutamente vero. Parlando di Love Like Bleeding, è un film ambientato, comunque la protagonista ha una palestra, e quindi molti degli oggetti sono a tema Crater Gym, che è questa palestra. E qui c'è una maglietta della Crater Gym, dello staff, per esempio. Tra l'altro bellissima qualità, e della A24. Non si può fare sport senza i calzini della Crater Gym, sempre targati A24, belli, belli resistenti, servono a me. C'è una cosa particolare, che è questa, che è il posacenere, sempre della Crater Gym. Chiaramente adesso a noi non dice molto tutto questo, perché non dice molto, perché non abbiamo ancora visto il film. Però immagino che poi, se ci affezioneremo ai personaggi, sicuramente questi oggetti acquisiranno un significato più importante per noi. Io non fumo, però onestamente il posacenere me lo tengo lo stesso, ci metterò niente, me lo tengo e basta. Qua dentro abbiamo delle splendide cartoline del film. Sono così grandi che volendo uno potrebbe anche appendersene. Eccole qua. Allora ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda l'unboxing di questa meravigliosa gift box che mi ha mandato Lucky Red. I film sono al cinema dal 21 agosto Maxine e dal 12 settembre Love Lie Bleeding. Andatevi a vedere, venite sul mio canale o sul mio sito internet per leggere le recensioni e confrontarvi con me. Seguitemi sul Twitch, iscrivetevi a questo canale YouTube, mettete like e lasciate un commento per dirmi cosa ne pensate dei film. Se siete curiosi, appunto, anche di questo film di Rose Glass e poi, insomma, anche più avanti, se l'avete visto, venite qua comunque a commentare e dirmi cosa ne pensate. Grazie.